Musica In questa edizione del DNews si è svolta questa mattina l'udienza preliminare nei confronti dell'editore Mario Ciancio Sanfilippo accusato di concorso esterno all'associazione mafiosa. Il GUP si è riservato di decidere il prossimo 14 ottobre considerando anche le numerose richieste di costituzione di parte civile. Sequestrati i beni per circa 5 milioni di euro a Salvatore Lomiglio, pluri pregiudicato esponente di clan mafiosi. Crocetta sempre più in difficoltà, anche la maggioranza comincia a bacillare, martedì vertice con i capogruppo e i segretari. La SAC, società che giustisce l'aeroporto di Catania, pronta ad affrontare la sezione estiva con molte novità in arrivo. 1896 Mentre ad Atene è il primo anno delle Olimpiadi dell'era moderna e Spiridon Lewis vince la maratona. A Catania apre il primo punto vendita che diventerà un riferimento assoluto per lo sport italiano. Nasce Zaccasport Cogli l'opportunità del salto triplo. Acquistando tre articoli fra abbigliamento e calzature, il meno caro lo pagherai solo un euro. Zaccasport A Mister Bianco nei due punti vendita di via Aldomoro 53 e 61 e l'apertura del nuovo megastore di sport in via Zaccarosalia 24, angolo via De Felice. Perché lasciarlo a casa? Anche quest'estate dal 6 giugno torna a Catania. Il Dog Beach Troverai tutti i comfort ed il divertimento di un Lido senza rinunciare ad averlo accanto. Spiaggia dedicata, asilo, dog sitter, parco giochi, addestratori cenofilo con programmi personalizzati, giornate di pet therapy, cabine stagionali e tanti eventi da condividere insieme. Dog Beach, presso Lido Azzurro, via Kennedy 11, Catania. Entra da Mondo Ragazzi e troverai tante idee per rendere felice il tuo bambino. Mondo Ragazzi è il mondo dei piccoli, abbigliamento e calzature da 0 a 16 anni con i marchi più prestigiosi. Da Mondo Ragazzi corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanze dei giochi. Mondo Ragazzi, amici d'infanzia. A Catania in via Pola 19, ad Agrigento in via Tenea 22, a Sciacca in via Licata 95 e a Giarra in Corsitalia 168. Le cooperative sono società che fondano la loro unicità sul principio mutualistico, il quale permette di usufruire di importanti sgravi fiscali e agevolazioni finanziarie. Cesicop è il centro servizi interprovinciali di confe cooperative, a supporto delle cooperative del territorio, fornendo servizi di consulenza contabile, fiscale del lavoro, progettazione fondi europei e accesso al credito. Particolari agevolazioni per il 2015 alle cooperative in a start-up sui servizi offerti. Cesicop sostiene la cooperazione autentica con professionalità. A Catania in corso Sicilia 24. Dopo le richieste di rinvio a giudizio, si è svolta questa mattina a porte chiusa l'udienza preliminare nei confronti all'editore e imprenditore Mario Ciancio Sanfilippo, a cui viene ipotizzato il reato di concorso esterno all'associazione mafiosa. In precedenza la procura di Catania aveva chiesto l'archiviazione del fascicolo, ma il GIP in udienza camerale aveva sollecitato nuove indagini. L'udienza si è svolta davanti al gruppo Gaetana Bernambo Di Stefano. Ciancio non si è presentato all'udienza a rappresentarlo gli avvocati Carmelo Peluso e Francesco Colotti. Quest'ultimo fa parte dello studio Buongiorno, poiché proprio Giulia Buongiorno è stata scelta da Ciancio per la difesa. Sostituti sono Agata Santonoscito e Antonino Fanara. In aula anche l'avvocato Dario Pastore a rappresentare l'ordine dei giornalisti, che chiede di costituirsi parte civile. Avvocato, l'ordine dei giornalisti vuole costituirsi parte civile per quanto riguarda il processo nei confronti e l'editore Mario Ciancio Sanfilippo. Spieghiamo le ragioni di questa decisione. L'ordine sostanzialmente lamenta un danno da un lato all'immagine, al decoro e al prestigio dell'ordine stesso e dall'altro lato un danno diretto alla personalità dell'ordine, perché l'ordine ha come scopo istituzionale quello di tutelare e garantire l'autonomia e l'indipendenza dei giornalisti e la condotta contestata al dottore Ciancio avrebbe arrecato danno a questi principi e libertà fondamentali. Non nascondiamoci, questo è un processo storico per la città di Catania, perché potrebbe scoprire il velo su quelle che sono le zone grigie, secondo la contestazione di reato, tra organizzazioni criminali e colletti bianchi. Ovviamente deve essere tutto vagliato dall'autorità giudiziaria, ma è un processo che può veramente scoprire il velo su quello che è la realtà storica di questa città. Il giudice si è riservato di decidere il prossimo 14 ottobre se rinviare a giudizio o meno l'editore Mario Ciancio Sanfilippo, poiché oltre all'ordine ai giornalisti altri soggetti hanno chiesto di costituirsi parte civile. Intanto, dopo il sequestro disposto ieri dalla procura di Catania di 17 milioni di euro nei confronti all'editore Ciancio, è lo stesso in un comunicato stampa a dire che non c'è nessun mistero su questa cifra. È tutta la luce del sole, scrive Ciancio, in ordine alle contestazioni che mi vengono oggi addebitate e che hanno portato all'approvedimento di per sé le sequestro e le somme da me ereditate e mantenute in Svizzera, ma ribadito con fermezza quanto era già stato spiegato in passato ed è il resto appurato dagli stessi inquirenti. I capitali nei conti svizzeri sono stati versati sin dai lontanissimi anni 60-70 e dopodiché i conti sono rimasti per oltre 40 anni praticamente senza movimentazione, incrementati solo dalle autonome attività di investimento svolte con successo dagli istituti di credito svizzeri. Non essendoci alcun mistero da nascondere intorno a questi conti, prosegue Ciancio, non ho mai pensato del resto di ricorrere allo strumento legale del segreto bancario, ma ho approntamento autorizzato senza riserve e manifestando espresso consenso la Procura Federale Svizzera a collaborare con l'autorità giudiziaria italiana. Le somme inoltre sono stato oggetto di scudo e di collaborazione volontaria, conformemente alle leggi della Repubblica Italiana, per aderire alla quale sono stati versati all'erario oltre 6,5 milioni di euro. E non solo nessun mistero c'è stato su questi conti, dice Ciancio, nella benché minima intenzione di trasferire le somme in chissà quale paradiso fiscale. I soldi sono stati fatti rientrare infatti in Italia e depositati in un istituto di credito nazionale presso la sede di Catania, con lo strumento assolutamente trasparente e completamente tracciabile e il bonifico bancario, non in contanti, non non dove, non nascondere, chissà che. Quanto alla provenienza di questi capitali, al mio personale stato patrimoniale, precisa Mario Ciancio Sanfilippo, è stata ed è più volte la stessa procura della Repubblica di Catania a ricordare nei suoi atti che le attività imprenditoriali che ho svolto durante tutta la mia esistenza hanno fatto di me una persona ricca, che ha del resto costantemente rimesso in circolazione il capitale accumulato per alimentare e portare avanti con successo le aziende e la mia famiglia, che hanno dato lavoro a centinaia di persone. Respingo per questo con forza, conclude Ciancio, anche il tentativo di spostare il calendario del tempo indietro negli anni, sino a creare un'incredibile commissione tra la mia storia privata e pubblica, il mio lavoro e le mie attività, con quella di altri personaggi coinvolti in passato, in vicende giudiziarie su che è stata fatta ampiamente luce da numerose e approfondite indagini in cui non è mai emerso nessun mio coinvolgimento, neanche in diretto. La Questura e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, questi ultimi su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro di numerosi beni emesso dalla sezione Misure di Prevenzione del locale Tribunale, nei confronti di Lomiglio Salvatore, pluri pregiudicato 54enne, arrestato nel febbraio 2014 nell'ambito dell'operazione denominata Money Lender, eseguita da personale della locale Squadra Mobile, congiuntamente al nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, in quanto ritenuto appartenente, con altri 30 soggetti, a un'associazione criminale dedita all'usura e all'estorsione, con l'aggravante di aver favorito le due famiglie mafiose catanesi Laudani e Santa Paola. Ed è proprio in relazione a tale ultima circostanza che da una parte la locale Procura della Repubblica, delegando al riguardo la Guardia di Finanza, e dall'altra la Questura di Catania, autonomamente su incipit del questore, hanno condotto indagini patrimoniali nei confronti del citato Lomiglio e del suo nucleo familiare, volte a verificare la coerenza del patrimonio posseduto e dal tenore di vita con i redditi dichiarati. Le investigazioni, condotte anche attraverso l'utilizzo di sofisticati software per l'analisi di tutte le informazioni disponibili nelle banche dati, hanno consentito di individuare numerosi beni mobili e immobili illecitamente accumulati dall'omiglio salvatore e di proporne alla competente autorità giudiziaria il sequestro. Il Tribunale Misure di Prevenzione, nel condividere la proposta formulata dalla Procura Distrettuale di Catania e dalla locale Questura, ha motivato il provvedimento di sequestro sottolineando da un lato la forte sproporzione tra i redditi dichiarati ai fini fiscali e pari a circa 40.000 euro annui e il valore dei beni acquisiti con investimenti di oltre 200.000 euro per anno e dall'altro la pericolosità sociale del pervenuto. È stato così disposto il sequestro di significative quote di società intestate al proposto operanti nel settore della ristorazione, delle assicurazioni e della gestione di sale e giochi. Il sequestro ha riguardato anche 22 immobili per lo più concentrati nel territorio catanese e a Letoianni, comprese una lussuosa villa a San Giovanni La Punta, tre automezzi, oltre che titoli e conti correnti bancari e postali intestati all'omiglio e ad altri suoi familiari. Tra gli immobili sequestrati vi è anche un edificio sito a Mister Bianco composto da 28 appartamenti di cui 14 già venduti nel corso degli anni, che era stato intestato alla madre ultraottantenne dell'omiglio ma gestito da quest'ultimo in forza di una specifica procura. Il patrimonio oggetto di sequestro ha un controvalore complessivo valutabile in circa 5 milioni di euro. Un basso e accurato servizio di controllo delle territorie è stato messo in atto ieri dalla Polizia di Catania e ha riguardato in particolar modo il centro storico. Grazie anche alle moderne tecnologie di cui sono state dotate molte vetture alla Polizia di Stato, è stato possibile effettuare un numero di controlli informatici prima impensabile, circa 300 in breve tempo. Questo grazie al progetto Mercurio che prevede l'installazione di tablet sulle volanti. Inoltre centinaia di controlli hanno interessato le persone e i veicoli che sono stati fermati per accertamenti. Relativamente pochi fermo veicolo per guida senza casco, tre in tutto e sono stati sequestrati due veicoli e ritirate tre carte di circolazione. Il servizio ha visto anche una vera e propria operazione condotta nella zona antistante la stazione ferroviaria centrale, dove commercianti senza scrupoli avevano messo in atto una vera e propria opera di colonizzazione al suolo pubblico, occupandolo con tavoli e sedie senza essere in possesso di alcuna autorizzazione per poterlo fare. L'intervento della task force e le volanti, collaborata al personale della polizia locale sezione annona, ha messo fino allo scempio. Gli ambulanti indisciplinati sono stati controllati, identificati e infine denunciati in stato di libertà per il reato di invasione di terreni ed edifici, fatti specie ben più grave della violazione amministrativa prevista per l'occupazione abusiva di suolo pubblico. Mertice di maggioranza martedì a Palermo a convocarlo il presidente Crocetta che vuole incontrare segretari e capigruppo per uscire dall'isolamento in cui è piommato subito dopo gli attacchi al governo nazionale fatti mercoledì durante una conferenza stampa. I renziani ormai suggeriscono in modo esplicito l'interruzione di questa legislatura e lanciano un hashtag dal significato molto inquietante Saro stai sereno dove il sindaco di Siracusa infatti Giancarlo Garozzo fedelissimo di Faraone e il presidente di missione del PD Marco Zambuto a dire la popolarità di Crocetta è pari allo zero e apriamo una seria riflessione sull'opportunità di continuare l'esperienza di governo. Il segretario Fausto Raciti invece dal canto suo evita toni drammatici ma conferma che al Nazareno è aperto un dibattito sullo futuro della regione. Crocetta si difende e dice Renzi non ti fare intrappolare da alcuni dei cosiddetti renziani solani che non sono affatto rottamatori e in Sicilia rappresentano la conservazione parlo di individui che pur ricoprendo ruoli di governo in realtà agiscono per solo interesse sponsorizzare se stessi stima il premier ma cose diverse sono i suoi uomini aggiunto il presidente della regione. Intanto dove il PDR di Cardinale anche il megafono la creatura stessa del governatore prende le distanze da Crocetta si allunga dunque la lista degli ex amici Enzo Bianco dal canto suo dice Rosario è mal consigliato così perderà uno a uno i suoi punti di riferimento Marco Zammuto presidente dell'assemblea regionale del PD dice penso che si debba aprire dentro il partito una seria riflessione sull'opportunità di continuare un'esperienza di governo che non risulta essere più in sintonia con la Sicilia e i siciliani non mi sarei aspettato aggiunge che a commentare dei risultati elettorali il presidente Crocetta la cui popolarità in Sicilia è pari allo zero si avventurasse a scaricare le sue responsabilità sul presidente del consiglio Matteo Renzi critiche a Crocetta anche dall'UDC secondo il presidente nazionale Gempiero Delia Crocetta sbaglia nella sostanza perché è responsabile di dividere la maggioranza prima di importanti appuntamenti parlamentari e sbaglia nella forma utilizzando toni eccessivi e sproporzionati che non fanno altro che alimentare ancora di più la distanza del governo regionale del Parlamento ma anche dai siciliani dunque Crocetta ha lanciato la sua sfida alla maggioranza e martedì metterà sul tavolo quattro riforme da approvare all'Ars prima della pausa estiva i liberi consorzi delle città metropolitane con diritto di autodeterminazione lo sblocca Sicilia con le norme per la riforma e la burocrazia la legge per dare un reddito ai disoccupati è quella sull'acqua pubblica rispettando il referendum i sbirri se ne devono andare i picchi sbirri ci fanno schifo a pronunciare queste vergognose parole è stato non un delinquente ma un esponente delle istituzioni ci riferiamo al sindaco di Mister Bianco Nino Di Guardo che durante il consiglio comunale di lunedì scorso attaccando il maresciallo dei carabinieri e consigliere comunale Marcello Russo ha inveito genericamente contro le forze dell'ordine scatenando le ire di gran parte dell'opinione pubblica alcuni nell'intervento li mettiva appunto contro le forze dell'ordine a Mister Bianco c'è un'amministrazione di persone per bene oneste nei confronti dei quali i sbirri non hanno cosa fare se ne devono andare i sbirri i picchi sbirri ci fanno schifo alcuni consiglieri comunali attraverso un manifesto pubblico hanno voluto testimoniare solidarietà alle forze dell'ordine secondo quanto si sente alle registrazioni la seduta del consiglio comunale divulgata al sito la spia.it il sindaco di Guardo prima si è scagliato contro il consigliere accusandolo di dire sciocchezze per poi suggerirgli un consiglio le voglio dare non si avventuri strade che non conosce picchi ci può non essere puttusa e si sdrubba da incia e dopo cuvene a pigliare i capis oltre 150 kg maresciallo io per il suo bene lo dico maresciallo si faccia la sua strada e non faccia strada che sconosce cucciupotta dogu tutto che aggira tutto che fa denunce lei usbirra Mister Bianco non lo deve fare Siamo ormai alle porte la stagione estiva si sa aumentano le necessità durante questa stagione l'ospedale Garibaldi come si sta preparando considerando anche che poi i sindacati denunciano sempre la mancanza di personale soprattutto nel pronto soccorso è proprio là il punto stiamo cercando di potenziare il pronto soccorso come d'altra parte abbiamo fatto nella precedente stagione estiva l'anno scorso potenziando sia il personale sia anche delle linee di attività abbiamo da pochissimo aperto una stanza di biocontenimento che consente un percorso differenziale per i pazienti che vengono direttamente dalle panchine del porto cioè i migranti per evitare di ingolfare nello stesso momento e nelle stesse ore l'ospedale con altri soggetti che possono essere portatori peraltro di patologie diffusive abbastanza delicate stiamo anche mettendo appunto un protocollo con l'autorità portuale sanitaria in modo da delineare percorsi ben netti che consentano di tenere distinti ma dall'altra parte di dedicare il medesimo livello di attenzione ai pazienti migranti e ai nostri pazienti che ovviamente nel periodo d'estivo soprattutto i più anziani sono colti da malori e da patologie che vengono affrontate efficacemente ritengono i nostri pronto soccorsi Presidente iniziata la stagione estiva quella più importante per il turismo in Sicilia come si prepara come si è preparato l'aeroporto di Catania ma noi ci stiamo preparando al meglio avremmo voluto realizzare alcuni lavori compreso anche il rifacimento dei servizi igienici purtroppo problemi legati alla necessità di rispettare la regola della legalità non ci hanno permesso di eseguire i lavori in tempo per il resto noi stiamo cercando anche qui di offrire ai passeggeri che scelgono di utilizzare lo scalo di Catania alcuni servizi che riteniamo innovativi uno tra questi riguarda la possibilità di ottenere dal personale nostro tutte quelle informazioni necessarie rispetto ai problemi che si presentano loro e ancora un altro servizio innovativo è quello di dare la possibilità non so se ci riusciamo a farlo prima dell'apertura della stagione estiva ma nel corso dell'estate sicuramente sì è quello di dare la possibilità di poter caricare telefoni smartphone e così via e di poter navigare gratuitamente all'interno dello scalo Convegno a Catania degli organismi partecipati degli enti locali siamo in compagnia del dottor Sebastiano Truio che è il presidente dei dottori commercialisti e degli esperti contabili catanesi insomma in parole povere vogliamo spiegare di cosa quest'oggi state parlando stiamo parlando del funzionamento e dei controlli sulla società partecipate dagli enti pubblici che in Italia rappresentano una realtà di circa 10.000 società che direttamente o indirettamente sono partecipate dai comuni dalle regioni e questo rappresenta un argomento che è stato oggetto di quella relazione sulla spending review dell'allora commissario Cottarelli che a luglio del 2014 evidenziò la necessità di rivedere il sistema delle partecipate con queste partecipate noi ci riferiamo in modo particolare a quelle catanesi sono anche loro in un momento di crisi? Certamente proprio per questo il commissario Cottarelli ha evidenziato la necessità di intervenire perché le partecipate soprattutto quelle a totale partecipazione pubblica spesso hanno costi del personale o comunque risultati economici che non consentono diciamo una gestione finanziaria da parte dei comuni che in questo momento che adesso sono davvero in grosse difficoltà e quindi non possono più sostenerne il peso Santa qual è la soluzione se c'è? Ma la soluzione è quella davvero di sbracciarci tutti quanti per comprendere che ormai alcune situazioni non è possibile più mantenerle e fare ognuno la nostra parte per cercare di far ripartire finalmente questo sistema paese Lei è assessore del comune di Catania in che modo anche il comune ha a che fare? Il comune ha a che fare in maniera importante le società partecipate del comune di Catania rivestono un ruolo importante sia dal punto di vista patrimoniale sia dal punto di vista di servizi che erogano alla città non dimentichiamo che AMT nei trasporti sidra nel servizio idrico ASEC nel gas e molti servizi per l'attività di servizi in genere e sostare per quanto attiene ai parcheggi e alla mobilità contro la mobilità le partecipate rivestono un ruolo importante ovviamente nel passato le partecipate sono state frutto di possibili attività gestionali non efficaci non dico a Catania a livello nazionale tant'è che c'è stato un controllo e c'è da parte del governo un controllo significativo che è volto alla riduzione delle partecipate e a rendere a consentire la titolarità di partecipazione in società nei limiti in cui questo è necessario il quedo a sa beispielsweise a a non è la